Ad una settimana di distanza dagli attentati di Parigi, che hanno provocato 129 morti, iniziano i primi funerali delle vittime. Essi continuano a piangere i morti, giovani che quella notte hanno perso la vita. Tra loro il corpo del giovane egiziano di 28 anni, Saleh Aja Bali, è arrivato venerdì sera all'aeroporto del Cairo dopo l'autorizzazione delle autorità francesi all'estradizione. E diverse, centinaia di persone del suo villaggio a Bunasser e dei villaggi vicini hanno partecipato all'ultimo saluto. Siamo andati in Francia per lavorare, ci dice questo suo amico, e abbiamo scelto proprio Parigi. L'ho incontrato lì diverse volte e posso dirvi che è una persona molto buona e che non aveva nulla a che fare con tutti questi problemi. Colui che ha fatto questi attacchi non è un essere umano, dice l'imam del villaggio. Questo è un attentato terroristico contro persone innocenti che non hanno alcuna colpa. Sparatori e bombardamenti non sono collegati a nessuna religione. Quei terroristi staranno di fronte a Dio e pagheranno duramente per quello che hanno fatto in questa vita, come noi crediamo nella nostra religione dell'islam, dice l'imam. Rabbia, tristezza e denuncia è l'immagine che testimonia questa scena, in questo paese, quando l'uccisione del giovane egiziano negli attacchi terroristici di Parigi. Questi maledetti attacchi che non distinguono nessuno.